Stamane presso la Sala Galatea del Palazzo di Città di Acireale è stato presentato il libro della scrittrice catanese Carmen Privitera dal titolo Santa Venera, messaggera di pace e San Sebastiano, figlio di Cristo, immortalato nella fede, promossa dall'Associazione di Promozione Sociale. Un libro che la scrittrice Privitera ha dedicato al vescovo della diocesi di Acireale, il signor Antonino Raspanti. All'incontro, insieme alla scrittrice, al vescovo Raspanti e al sindaco Barbagallo, era presente anche il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizi. Numerosi partecipanti all'appuntamento culturale e religioso, autorità militari, ecclesiastiche e civili intervenuti per onorare i santi venerati ad Acireale come esempio di cristianità nel mondo. L'incontro è stato intervallato anche da momenti musicali al vescovo Raspanti e a tutti coloro che sono intervenuti, donati anche un esempio di busto reliquiario della patrona di Catania, Sant'Agata.